Col passare degli anni ci si pone spesso una domanda ma è meglio che inizio a dividere il mio patrimonio fra i miei figli o è meglio che aspetto quando sarà e quindi che se la vedranno loro con la dichiarazione di successione? Esaminiamo in questo video se davvero conviene fare la donazione ai nostri figli prima del tempo. Spesso i nostri clienti ci pongono la domanda ma non è meglio se regalo già fin da ora a mio figlio la casa o magari se gli faccio una donazione mi tengo l'usufrutto per viverci finché campo? La risposta non può essere univoca per tutte le situazioni a volte conviene e a volte no. In questo video voglio spiegarvi le ragioni a sostegno del no ovviamente ce ne sono anche a sostegno del sì e quindi perché è meglio che non lo fai? Anzitutto abbiamo i costi le imposte di successione e di donazione sono esattamente le stesse prevedono una franchigia di un milione di euro di patrimonio sotto la quale non si paga nulla e quindi sono sostanzialmente la stessa cosa. Le imposte catastali e ipotecarie anche qui fra donazione e successione sono le stesse e cioè sostanzialmente il 3% del valore catastale dell'immobile sempre che l'immobile che doniamo non sia la prima casa del figlio se invece dovesse diventare la prima casa del figlio l'imposta ipotecarie catastale si paga in misura fissa in euro 400. La donazione però diversamente dalla successione prevede due ulteriori attività e che sono il pagamento dell'imposto di registro che in questo caso sarà di 200 euro e la parcella del notaio che necessariamente dovremmo utilizzare per fare sia l'atto di donazione che poi le trascrizioni sia al catasto che in conservatoria quindi nei registri immobiliari e già questo ulteriore costo è un elemento a sfavore della donazione rispetto a quello che sarà invece il momento della successione. Un secondo elemento è costituito dal fatto che il vostro figlio potrebbe per eventuali problemi di lavoro o specie se ha un'attività improprio ad esempio andare incontro a dei debiti che non riesce a pagare e in quel caso i creditori potrebbero andare a pignorare la casa che voi gli avete donato e che a quel punto non è più vostra perché è del figlio e potrebbe essere soggetta a pignoramento e quindi essere venduta all'asta. È una situazione questa ovviamente che può capitare a tutti, può capitare anche a voi che volete fare la donazione ma voi potete controllare quella che è la vostra attività economica, la vostra vita economica non potrete certamente controllare quella di vostro figlio. Un terzo elemento è costituito dal fatto che proveniendo da donazione l'immobile non potrà di fatto più venire venduto né dato in garanzia per un mutuo ad esempio e qual è il motivo di questo? È data dal fatto, la questione è tecnicamente complessa anzi se poi volete e siete interessati chiedetemelo nei vostri commenti così faremo un apposito video su questa questione ma dicevo, le donazioni possono venire revocate per esempio da vostra moglie o marito o da altri figli se al momento in cui voi non ci sarete più si scoprisse che avete dato a quel figlio attraverso quella donazione più di quello che potevate dargli in termini di quota patrimoniale Ricordate che non potete disporre del vostro patrimonio a piacimento in termini successori e la donazione di fatto è un anticipo di successione ma che i figli e il coniuge hanno diritto ad avere una quota minima garantita la cosiddetta legittima Per queste ragioni, siccome la donazione può venire impugnata in qualsiasi momento non ci sono termini di prescrizione fino a quando voi non sarete venuti a mancare e quindi anche dopo decenni e persino nei confronti di terzi che avessero nel frattempo magari acquistato l'immobile e che quindi avressero comprato da vostro figlio conseguentemente nessuno vi comprerà più questo immobile né sarà disposto a prestare dei soldi a mutuo mettendo quell'immobile a garanzia proprio perché gli altri eredi, quindi altri figli o vostra moglie in qualsiasi momento anche a distanza di decenni potrebbero andare a richiedere all'acquirente di versare la differenza in favore del coniuge o del figlio che hanno avuto meno di quello che loro aspettava Ancora un altro elemento diciamo a sfavore della donazione è dato dal fatto che se la casa viene usata dal vostro figlio con la sua famiglia nella malaugurata ipotesi di separazione dal coniuge potrebbe dover essere costretto a lasciarla, ad abbandonarla in favore dell'altro coniuge e quindi sostanzialmente né voi né vostro figlio sareste più nelle condizioni di poter trarre alcun beneficio dall'immobile in questione E infine ricordiamoci che i figli non sono nostri e quindi possono prendere delle strade, delle decisioni che noi non condividiamo possono allontanarsi da noi e disinteressarsi anche di noi Ora, se noi avessimo in futuro bisogno di risorse economiche per la cura, per l'assistenza eccetera potremmo ritrovarci in difficoltà senza poter più disporre delle entrate derivanti dall'immobile che abbiamo donato al figlio Entrate che possono essere o eventuali affitti, quindi il ricavo economico dall'utilizzo dell'immobile o addirittura perché c'è bisogno di somme importanti e quindi lo dobbiamo vendere Se lo abbiamo donato non possiamo più farlo In conclusione, la donazione è un bel gesto ma prima di spogliarvi di un bene così prezioso quale può essere un fabbricato, una casa eccetera pensateci bene e soprattutto fatevi assistere da un buon avvocato che sappia progettare l'operazione in modo da tutelarvi il più possibile da futuri rischi e da futuri contenziosi Bene, spero che questo video vi sia stato utile Aspetto i vostri commenti come sempre Se volete iscrivetevi al nostro canale attivando anche la campanella per le notifiche sui video futuri Grazie e alla prossima!